Ciao a tutti, eccomi qua per fare il Terminus 9 Dunque, faccio vedere le unità che uso Uso Zell Knight come leader mio E metto, come sia, Elsa come leader del Friend Le unità sono queste qua Adesso, vediamo un attimino Scusate Ho fatto un try E, tanto per farvi ridere Sono arrivato a 1.295.000 Mi bastavano 5.000 in più perché avevo due unità morte Quindi, con 5.000 in più, che erano quelli che mi davano le unità Sarei riuscito tranquillamente a passare Dunque, il primo è il Selfish God Che è un'unità che più avanti si potrà trovare e vendere Dalla, mi sembra, 100.000K Allora, il primo attacco lo potete fare tranquillo Quando lui vi attacca, verranno delle scritte A seconda delle scritte Ehm Voi dovete fare un'azione specifica nel turno dopo Allora, adesso vi faccio vedere Vedete? Mi ha scritto Ouch, don't hit me so hard Allora, quindi Nel prossimo round Cioè, in questo round qua dove sono adesso Se io gli faccio un Brave Bust Muoio, diciamo Perché praticamente Se non si fa quello che lui dice Il suo turno Poi vi spara un Super Brave Bust Che vi fa un sacco di danni E quindi rischiate di morire Allora Questo round qua Non mi ha detto niente Quindi lo posso attaccare Con tutto Cioè, con tutti i Super Brave Bust Quello che voglio I comandi che vi da sono Questo qui di non attaccarlo Di fargli vedere Un Brave Bust Un Super Brave Bust Di usare degli item Se non fate quello che vi dice Penso che Vi fa abbastanza danno Vedete? Adesso ha scritto Show me how you use your hit items E adesso Devo usare per forza un oggetto Che sia un elisir Una cura Qualche cosa Altrimenti Quando poi tocca a lui Mi tira una mazzata disumana Io però adesso Posso già cominciarlo A pestare pesantemente E Niente Se comunque poi Fate quello che lui vi dice Vi può anche curare Per ringraziarvi Vediamo se adesso Mi cura Vedete? Grazie E mi ha curato Adesso Lo attacco normale Scusate ancora Vediamo se mi chiede Di usare Di fargli un po' Di super brave bust No Anche sto giro Oh ok Show me how you use your item Ah io lo faccio Non ti preoccupare Guarda Mi uso giusto la pozione D'attacco Grazie E mi cura Adesso non mi chiede niente Non attacco E diciamo Questo è Lo scoglio Il primo scoglio Un pochettino Difficile da fare Ma Se fate quello Che lui vi dice Non è un problema Secondo incontro Non è particolarmente Difficile Da quello che ho visto io Poi magari Adesso mi Mi sciottano Ok Di solito Adesso Dovrei andare Tranquillo Adesso vediamo Non me li fullo Tutti Brave bust Oh si Si Madonna Per questo Che mi porto Darvan Che mi sono portato Darvan Ce l'è Perché Rallenti tutto Non morite E la madonna Piano Tranquillo Posso? Posso? Ok In questo giro Siete morti Magari perché C'ho C'ho Chrome aperto Sotto Adesso Lo chiudo Al volo E mi dovrei Fullare Di nuovo Tutto Perfetto Perfetto Alla grande Vediamo se riesco ad arrivare a un milione e tre Adesso Di loro C'è Loc Che ha uno sproposito di vita Ma proprio Ne ha veramente tantissimo E Dovete fare attenzione perché fa un Su Una OE Molto Molto Forte Quindi Io per sicurezza Faccio così E anche Dora Se mi va bene Vediamo un po' Se mi crittano abbastanza Vediamo se riesco ad ammazzargliene Portarli almeno a metà Ok Perfetto Perché Lario Utilizza un'abilità Se non sbaglio Esatto Lo Star Gale E il round dopo Loc Utilizza il suo Mega Ultra Super A OE Però Avendoli già Dimezzati Li dovrei uccidere Mi rimane solamente Loc Che Almeno La La mia Trae precedente Non me Non me li ha uccisi Quindi Dovrei essere Abbastanza parato Dato che Utilizzando il Super Brave Bastard Arvanshell Allora loro muovono tutti Tranne Loc Esatto Che ha veramente Tanta Tanta vita I show you right now Ah no Ah eccolo qua Papam Bam Proprio un colpettino Leggero Leggero Adesso gli tiro Sempre Sempre Tutto E dovrebbe essere Morta Muori Perfetto Perfetto Ok Un po' Eh Manca poco Per The Night Che qui è Se non sbaglio È Azael Che è quello Che ha Più vita Di tutti Però Ah Maledetto Che raid Dunque Vediamo un attimino Se io faccio Così Così Breakbust Normalizzo Il Knight Che mi aumenta Lui E in teoria Anche lei Vediamo un po' L'importante è E avere sempre attivo Il Super Brain Bass Di Darvanshan In quello Si va tranquilli Avanti Tanto Mi fate Praticamente Niente Adesso BAM Morti Addirittura 92 Adesso Uso L'Elysir E gli tiro E gli tiro Effettivamente Tutto quello Che ho Che mi Vorrei fare La multi kill Di tutti e tre Sai che non ce la faccio Di uno sputo Vediamo un po' Eh no Vai No Ma dai Madonna Madonna Dove se prendere Prendere Per Il culetto Maledetto Vai Andiamo un po' Settecenti Spero di farcela adesso Ecco Qui è dove c'è il problema Con mare Perché mare Praticamente Si fa Un Quando scende sotto Il 50% Si fa un buff Che Come si dice Infligge Che praticamente Si fa un angel idol E il round dopo Tira una oe Devastante Cioè Che Praticamente Mi ha ucciso Quattro unità Mi ha ucciso Zenite Mi ha ucciso Maxwell Melchio E Raiden Se non sbaglio Ah Mi sono dimenticato Che fa pure Queste cose Aspettate Allora Se io faccio Io faccio Così 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 E che devo cercare Di non farla andare Sotto Sotto Il 50% Ok Che praticamente Il segreto Per questo qua È portarla Al 50% Cioè Prima Del 50% E poi Sparargli Tutto quello che avete Praticamente Dai Allora Come che faccio Allora No Userò L'altra Tattica Allora Facciamo così Va Vedete Adesso Si è preparata Per Per ammazzarmi Challenge l'idol Quindi non muore Non muore Io Cosa gli faccio Mi metto In Guardia Con tutti E Perché ho visto che Anche se la portavo A meno Verso il 50% E poi la attaccavo Con tutti Non morivo Uguale Allora Facendo così Guardate quanto fa Ok Ok Ho visto che Perché L'ho messo In guardia Dovrei Dovrei Ammazzarla Adesso Ok Così Non avendo L'angel idol Non può Ressare È meglio Far così È più sicuro Infatti al primo 3 Non pensavo Che era così Forte Mi ha ucciso Sono rimasti in vita Solo Darvansh e L'Elza Adesso Anche qui Più o meno Come prima Solo Che Non ho Abbastanza Per fare Il super Brave Di Darvansh Che però Io lo voglio Fare Perché anche Contro Questi due Vedete Uno che vi Riduce i danni È molto Molto Meglio Vedete Adesso Basta Però state esagerando Bravi Qua non lo so Se riesco a far La La Multi kill Cioè ucciderli Tutte e due Perché sono Abbastanza Tosti Fanno sempre Comunque Un sacco Di attacchi Di danni Vediamo Un po' Vediamo se Adesso Che hanno Tutti Il buff Stizzle night Questo era Il terzo Turno Se li uccido Adesso Mi prendo Anche il bonus Per il terzo Turno E non lo so Di poco Di poco Non ce la faccio No Attenzione Eh no È solo uno Vabbè Però niente Mi ammazzo Mi ammazzo così Di giustezza Sono già arrivato Dovrei arrivare a un milione Adesso E più o meno Allora Adesso c'è Zell night Fai attenzione Perché Zell night È un ladro Dato che Vi ruba I buff Allora Cominciamo Così Praticamente Cosa fa Vi ruba L'attacco Delle unità Cioè Vi attacco Un'unità Lui Si buffa Vi attacco L'attacco Mentre l'unità Che è attaccato Gli riduce L'attacco Oppure Vi attacca E vi ruba Il brave bust La barra Del brave bust Oppure Vi attacca E vi ruba La difesa Cioè Lui Death up E voi Death down Su quell'unità E Non lo potete Togliere Quel debuff Lì Col pure Elixir Quindi Fate attenzione Io poi Ogni volta che posso Utilizzo Il Super brave bust Di Darvanshell Perché Quando vi ruba L'attacco E poi Vi attacca Fa malissimo Cioè Senza il buff Di Darvanshell Se vi Colpisce Tutte le volte Un'unità Ve l'ammazza Quindi Vedete Attack Steal Poi vi fa Il Cosmo Grip Fa un sacco Di attacchi Defense Così vi ruba Anche la difesa Adesso Poi vedete Che Nelle unità Che Che hanno Non so Se ci Non so Perché Forse Con 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 Lo status La protezione Degli status Di melchio Non li fa Vediamo un po' Ah no Vedete Attacca Difesa Bassi È Molto antipatico Su questo Ho uno sputo Non me ne accorgevo Con Darvanshell Poi a questo punto Va bene anche fare Il singolo Il Brave Bust Normale L'importante è avere Sempre qualcosa Che Vi diminuisce Il danno Che prendete Allora Con questi Arrivo A un milione Un milione Cento Un milione Un milione Un milione ah vedete mi ha rubato mi ha rubato la barra del brave bus da tutti però non mi interessa io tanto faccio così per sicurezza do una curata prossimo round dovrei riuscire a ucciderlo mi tolgo via questo madonna questo milione 5.000 è veramente stata una cosa che mi ha fatto incazzare tutto perché nello scontro precedente con Mara sono morto come un fesso ah beh tranquillo adesso ti uccido di giustezza e con questo dovrei riuscire a ucciderlo perfetto adesso vediamo se tra tutto riesco ad arrivare almeno a un milione e tre forse anche qualcosa in più eh allora vediamo vediamo ok ok perfetto e mi dammi leg word perfetto adesso li ho presi tutti spero che vi sia piaciuto questo video che magari vi possa aiutare comunque anche voi per poter superare questo questo frontier hunter in scioltezza ci vediamo al prossimo video e ciao 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 ciao